Ciao amici, oggi vi svelo quali sono i miei prodotti preferiti, i miei prodotti della mia beauty routine. Quindi oggi vi apro il mio armadietto personale e vi faccio vedere quali sono i prodotti che uso quotidianamente e quali sono i miei prodotti preferiti e gli mancabili proprio a casa mia. Ecco che vi svelo cosa contiene il mio armadietto segreto, che in realtà non è segreto. Allora innanzitutto fuori dall'armadietto ci sono latte detergente, gel detergente e tonico. Questo vi avevo raccontato l'altro giorno nel video tutto il processo della beauty routine con la doppia pulizia. Quindi prima di tutto si passa il latte detergente, che va bene anche come struccante sugli occhi, poi il gel detergente per pulire a fondo la pelle e asportare ogni traccia di make up e di sebo e infine il tonico con il cerchietto, perché insomma così non devo lavare i capelli proprio tutti i giorni. Poi partiamo sul primo ripiano, troviamo i prodotti per il viso. Io ho tantissimi sieri perché mi piace cambiare. Quindi come base si utilizza un siero, da utilizzare proprio come intensificatore dei principi attivi, quindi il levica in realtà funziona come schiarente per le macchie, oppure booster di bellezza a base di acido ialuronico. In questo periodo sto utilizzando come cambio di stagione il siero assoluta, che ha un effetto proprio illuminante sulla pelle. Dopo il siero utilizzo la crema viso. Di sera utilizzo la crema idratante, mentre di giorno la crema viso con protezione solare. In questo caso 25 perché non sono proprio, non sto tantissimo al sole, sto tanto in negozio, ma giusto al tempo di magari fare una passeggiata, arrivare in negozio o prendere un caffè in pausa. Quindi questa per adesso la 25, poi quando andiamo proprio in spiaggia io solitamente uso la 50. Questo è un altro lato detergente che sto utilizzando, con questa spugnetta che avevo già presentato, meravigliosa, comodissima, perché si può lavare e riutilizzare migliaia di volte. Quindi con questa stendo il latte detergente, la sciacquo e poi la utilizzo anche con il gel detergente. Un burro cacao, che insomma questo non manca mai, ce ne ho uno qui, uno in borsa, uno a lavoro. Invece questa è la parte fiale, scrabbe, maschera, come trattamento urto, quando riesco ad avere una serata libera, solitamente una volta alla settimana, ogni 15 giorni, mi dedico allo scrub e alla maschera. Se non ho proprio tempo di mettere la maschera, dopo lo scrub utilizzo le fiale come trattamento di bellezza effetto urto. Sono delle fiale monodose, sarebbe un trattamento da 7 giorni, ma io le utilizzo una volta alla settimana proprio come trattamento di bellezza al bisogno. Sul secondo ripiano invece iniziamo con tutti i prodotti per i capelli. Quindi olio ristrutturante e spray, mentre lo shampoo ce l'ho già, ce l'ho in doccia. Della stessa linea, della biocap, ho anche lo shampoo ristrutturante, sempre la fitocheratina. Sono due prodotti da utilizzare, questi senza risciacquo. L'olio ristrutturante è un pochino più fluido, un po' più morbido, si può utilizzare anche prima del forno, prima della piastra. Mentre la linea olio di dattero è un pochino più cremoso, quindi per i capelli un po' più crespi, o da mettere proprio sulle punte quando si cerca un effetto più idratante e nutriente. Con questo invece è uno scrub viso-corpo, anche qui cerco una volta alla settimana di fare proprio il trattamento completo. Crema corpo, questa piace anche ai miei figli. Qua c'è il reparto tutto, mani, creme e mani, smalti, li mette per le unghie. Invece poi, reparto sopra ancora, troviamo la parte che in questo periodo adesso si diventerà ancora più ricca con la parte anticellulite. Sto provando il nuovissimo gel drenante salino. Questo va benissimo da utilizzare la sera sulle gambe stanche. Quindi, proprio come drenante e rimodellante, nel momento in cui ci sono proprio ritenzioni idriche o gambe gonfie. Mentre sul resto del corpo sto utilizzando la crema rassodante, che va benissimo dappertutto. Pancia, seno, braccia. Quindi come effetto proprio tonificante. La sto utilizzando come crema corpo dopo la doccia, proprio su tutto il corpo, ad eccezione appunto delle cuoce e glutei, dove sta provando la novità. Questo è un prodotto tipo bagno schiuma, si può utilizzare sotto la doccia. Lo chiamano fango schiuma snellente. In realtà la consistenza di un fango, quindi si stende sulle gambe, sulla pelle asciutta. E poi, chi ha la fortuna di avere la vasca da bagno, può utilizzarlo anche nella vasca da bagno, piuttosto che nella vasca idromassaggio. Se no, si sciacqua sotto la doccia, che fa l'effetto, un fango veloce, ma con effetto scrub. Poi, cosa abbiamo? Qui dietro c'è una crema, uplala, una crema per il seno, sempre della linea Cell Plus. Questo ho iniziato a usarla dopo l'allattamento. E aiuta a rassodare, a ridare tonicità proprio al seno. Quindi anche questa consigliatissima. Doccia shampoo solido. Questo va bene corpo e capelli. E' ideale anche in viaggio, perché è comodissimo per il corpo e per i capelli. E ha la sua comodissima scatolina da poter portare in giro. Il mio preferito prodotto della linea Solari. Il più 65. Acceleratore d'abbronzatura. Non è una crema autoabbronzante, ma è una crema che va a nutrire la melanina. Quindi questa è una crema che si può utilizzare come crema base, per esempio qualche giorno prima di partire per il mare, qualche giorno prima di fare la lampada, o come base delle creme solari. Va a nutrire la melanina e quando poi ci si espone al sole o ai raggi solari o alla lampada, intensifica l'abbronzatura del 65%. Quindi anche solo sul viso, magari quando un pomeriggio si riesce a passare un pomeriggio al parco, piuttosto che si ha tempo di fare una lampada, questo è perfetto da utilizzare come base, oppure anche è ideale come dopo sole, quando si torna dal mare per mantenere l'abbronzatura più a lungo. Oppure se andate via un weekend e volete tornare con un'abbronzatura da paura solo in due giorni, con questo prendete un bel colorito dorato in pochissimo tempo, perché si utilizza appunto qualche giorno prima, si utilizza come base sotto la protezione solare, perché non è una protezione, quindi potete mettere questo più la vostra crema solare, la vostra protezione preferita e l'abbronzatura sarà subito più veloce, più intensa e rimarrà fissa più a lungo sulla pelle, quindi questo è un ottimo prodotto, con appunto il suo anche dopo sole, anche questo non manca mai, anche se una giornata di sole, un velo dopo sole fa sempre comodo da utilizzare, prodotti per le zanzare che speriamo non ci servano. E infine, in cima in cima, tutta la serie di acque vitalizzanti che piacciono a me, ai miei figli, le adoro, quindi mi piace averne tantissime, perché mi piace proprio cambiarle ogni giorno in base all'umore, quindi c'è agrumi, che è proprio quella più fresca, più estiva, fico che è particolare speziata, ma anche quella molto estiva, narciso femminile, proprio fiorita, classica, pomelia invece è un fiorito dolce, che sa di frangipane e di lampone, chinotto e rosa riesce a unire l'agrumato del chinotto insieme al fiorito della rosa, quindi anche quella è molto femminile, fiori di cotone solitamente per i bambini, e cosa c'è qua dietro? C'è quella che usa mio marito, lei. E tutta una serie invece qua di oli, oli vegetali puri, quindi in base, insomma, alla consistenza, al tempo, alla voglia che ho di spalmare, mi piace variare, mi piace cambiare, per esempio il jojoba è una cera liquida, quindi è molto più corposo, va bene per esempio per il viso, l'olio di vinacciale è più leggero, quindi è ideale anche tipo per i massaggi, anche da utilizzare come base per miscelare gli oli essenziali. Lo stesso anche è quello di sesamo, il burro di mango è una buona alternativa al burro di karité, burro di karité e burro di mango sono due prodotti che fanno in vasetto così, perché la consistenza è proprio quella tipo del burro da cucina, quindi bisogna prendere tra le mani un pezzetto e scioglierlo, vi faccio vedere, è proprio solido, quindi come se fosse appunto il burro che usiamo in cucina, quindi si prende, si scioglie fra le mani e poi si stende sul viso, sul corpo, sulle labbra. Pomata al timo invece balsamica va benissimo, sia petto, gola e schiena per i bambini, ma non solo, nel senso che è una crema che si può utilizzare anche in piena estate, perché il timo ha un effetto antibatterico, quindi per esempio ideale da mettere magari come crema per esempio per i piedi, quindi chi porta magari le scarpe da tennis, chi vuole avere un effetto antibatterico, perché magari frequenta piscine, piuttosto che palestre, quindi ha questo effetto a livello proprio deodorante, sui piedi o appunto la classica crema balsamica che si utilizza a petto, gola e sotto il naso. Ed ecco che vi ho svelato tutti i miei segreti di bellezza. Vi ricordo che vi aspettiamo a Bernareggio e il mio buonanotte 15, oppure potete acquistare anche tramite il nostro sito, oppure iscrivendoci direttamente su whatsapp al numero 388 88 45 700. A presto, ciao!